Ciao ragazzi, ben arrivati su Ori, questo nuovo gioco acquistato proprio ieri. Devo ancora provarlo e lo farò insieme a voi, quindi andiamo ad avviare la partita e vediamo cosa succede. Allora, slot, facciamo una cosa normale. Allora, slot, facciamo una cosa. Le musiche innanzitutto spettacolari. Allora. 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 C'è successo? 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 le piccino perché qua si muore mi sa che dici se andassimo dall'altra parte la dure sommesse e vola ho trovato un contenitore di luce dello spirito piccolo bene sono felice deve aver trovato questo questa cosa cos'è quella luce bellissima cazzarola con lei non va bene oh ho trovato un frammento di vita llamado Ok No Cosa miseria Cioè da qua si ricomincia quindi A posto Cosa miseria Questa cosa dovremmo saltarla Assolutamente Ho trovato una cellula Energetica Ok ma noi l'inventario Dove l'abbiamo? Qui c'è la mappa Ho capito Spostati 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 Sempre qui siamo Ma quanto è carino Questo cosetto Ragazzi È troppo bellissimo E allora saltiamo Saltiamo Sì però poi noi Qua come Fermiamo Come si salva la partita Ora che mi ci fai pensare Ti ripremuto Per creare un collegamento Per creare un collegamento Salvare la partita Partita salvata Di più è saperlo Il resto Il resto viene da sempre Sono già affezionata Questo bel bambolino Ora tesoro Dove ti porto Qua mi sa che Ci facciamo male E qui Mi si salta Proviamoci Ma Non te lo sicuro Piccolo mio Mi pareva Vediamo se c'è un'altra uscita Qua ci fa fuori Ragazzi Questa cosa Non è che abbiamo Un'immunità Qualcosa Perché sapete Non avendo mai giocato Finora altre opzioni Non ne abbiamo Qua si muore Qua si muore Ragazzi Comunque Io terminerei Qui la partita Ho fatto questo Per farvi un po' Vedere di cosa tratta Questo gioco Già ci siamo Mi sono Commossa All'inizio Perché veramente Ha Ha una storia Ha una storia un pochino Un pochino triste Un passato un po' triste Questo meraviglioso Animaletto Qui Vedete Ho altri giochi Da terminare Ho altri giochi da terminare sul canale Però volevo dare una ventata di novità Sui nostri soliti giochi Fatemi sapere Ragazzi Non dimenticate Il like sotto al video E se volete Un commento Un bacio a tutti Nelix Games Ciao Ciao